La cosa bella di questo film è che rappresenta in un microcosmo tutto quello che poi in realtà è nel nostro paese, si vede nel nostro paese. La tua professore, la tua maestra è una maestra pacifista, non è una maestra che ama molti conflitti, cerca di trovare un equilibrio. Dice a tutti non perdiamo il sorriso perché è stressata va il conflitto, anche lei è un personaggio che in realtà quando parla agli altri sta raccontando un suo problema, una sua questione come accade un po' a tutti i personaggi e anche lei è una finta aperta perché poi con questo fatto di non perdiamo il sorriso, no ma davvero ma voi siete che bello che venite da fuori, ma in realtà c'ha dei pregiudizi mostruosi, anche lei c'ha dei cliché e quando parla con la nonna del bambino che è interpretata da Serra Ilmaz e dell'integralista islamica più simpatica del pianeta, credo perché con questi occhioni azzurri fa questo sguardo che non capisci se devi aver paura o devi scoppiare a ridere. Quando c'è un momento in cui dialogano sembra aperta questa maestra perché vuole essere aperta ma purtroppo i pregiudizi sono dentro la nostra testa, quindi mentre parla con lei e le chiede informazioni sul suo lavoro è convinta che faccia la donna delle polizie e invece lei sta dicendo che ha un'impresa di polizia ma non riesce a fare quel passaggio, per cui in effetti i personaggi sono tutti un po' come dire ottusoni un po' degli ottusi, un po' Beh, gli italiani, perché le due musulmane in confronto sono due scienziate, cioè sono rappresentate come due persone assolutamente, sì sì, ci mettono in ridicolo Guarda, secondo conflitto nell'arco di 5 minuti Sì, abbiamo fatto due film diversi Siete sicuri che sono del stesso set? Perché ci siamo ancorati al nostro punto di vista No, secondo me neanche Ma sì, sì Ma no, ma no, scusa possiamo andare un attimo Ci prendiamo a cazzotti Il copione, dov'è il copione? Il copione, qual è il copione? No, in realtà non c'è, guarda, non è vero, non è che loro scusami Valerio, posso dire, non è che loro sono raccontate come più intelligenti e gli altri sono raccontati come meno intelligenti E' che ognuno è chiuso nel suo punto di vista e tutti sono convinti di aver ragione E gli unici che stanno al di fuori, casomai, non perché siano innocenti ma perché sono ancora nel momento in cui non gli si crea nessun problema fare una recita di Natale con il bambino dei quali, il bambino dei quali Sono i bambini, ma no, dai è così Cioè ci devi liberare da questo conflitto perché potrebbe durare all'infinito Bisogna che qualcuno piacere, se no qua andiamo avanti Esatto, esatto, dobbiamo ripartire per donare, per donare per ripartire No, comunque insomma, ognuno ha la sua visione, compreso Rolando E questo è bello, perché puoi dire capire, il messaggio che trasmette Il messaggio che trasmette è che ognuno si deve, che sicuramente bisogna mettersi in discussione Questo è sicuro Tutto il resto, vabbè mi ci metto Parliamo di, parlando di divisioni Questo mi permette di fare un aggancione straordinario ad un altro tema di cui volevo parlare Che è un tema più calcistico, no? C'è sempre stato un po' questo problema del fuorigioco Del fuorigioco attivo, del fuorigioco passivo, no? Che è sempre stato un po' poco chiaro, giusto? Tu come la vedi? Cosa ne pensi? Io? Del fuorigioco? Beh, io penso che adesso non c'è più questo problema perché adesso c'è il VAR Sì, il VAR Quindi il VAR, diciamo, che poi c'è solo una questione, se posso dire, no? Che però mi sembra che vale per tutti ma non per qualcuno Esatto Valerio, vuoi aggiungere qualcosa? Niente, che credo, ti amascino Ce l'avevamo Sì, imboccata bene, capito? L'avevamo preparata perché io non so nemmeno cos'è il VAR Non so nemmeno cosa sia il VAR Avevo paura di aver sbagliato parola VAR, VER, come si chiama? Era venuta benissimo, tu sai perfettamente cos'è il VAR Però Valerio, da simpatizzante ottivo, da tifoso della Roma Mi sai dire qualcosa, insomma, è successo qualcosa ieri sera che ha un po' indispettito i tifosi della Roma Ieri sera? Dici? Non l'hai vista? Non ricordo Hai dato un'occhiata agli highlights della partita? Non ricordo C'è stato un Roma-Inter 2-2 con un rigore clamoroso non dato a Zaniolo E polemica a non finire perché soprattutto Totti nel dopo partita, il dirigente della Roma Ha detto ma questo VAR se lo si deve usare, si deve usare sempre Non è che si può usare soltanto per i tocchi di mano o per vedere il polpastrello Perché là sono perfetti Se poi c'è uno sgambetto in aria invece non si vede Come mai secondo te? Come te la spieghi questa cosa? Fai un po' di polemica, dai Fai il polemico Il capitano ha parlato per me e per tutti Quindi sei d'accordo con... Ma io credo che erano anni che nessuno si rivolgesse alle telecamere con... Con quella verità Così Con lucidità Ma che sì, con quella lucidità, incredibile Perché Roma-Inter anche l'anno scorso c'era stato proprio quel caso Perotti Anche l'anno scorso non era stato dato il rigore con il VAR Questo sguardo di Valerio Aprea dice tutto Non può dire ma dice tutto Ma dice tutto È meglio non toccare questo argomento con Valerio Aprea Bene È un cincinino di parte Benissimo Allora io non lo stuzzico più di tanto No, no, lascia perdere Comunque dentro ha un fuoco No, lascia perdere Ti ho detto che è acqua che è, lui sembra così Ma dentro sta a fuoco Ma dentro sta a fuoco Non mi sostiene perché se no poi mi costringi a chiedere alla Maschino di che squadra è No, no, no E là pure verrebbero voi Ma io guardo Quello che ha detto in ascensore No, no, no Ma io lo sport l'ho fatto Sono più una che l'ha fatto piuttosto che una che lo guardo Non lo guardo tanto Sei stata ginnasta tesi Io sono stata ginnasta Sì Ma nella mia città sono tutti ginnasti Io vengo da Ancona Fanno tutti ginnasti artistiche da Ancona No, lei la Comaneci Queste qua Eravamo io la Comaneci Io Nadia e qualcun altro Benissimo E quindi così niente La squadra non la rivelò Le due simpatie sportive resteranno un segreto Un segreto Un segreto Bene La Roma arriverà a quarta? Sì Benissimo Grazie mille di essere stati i nostri ospiti Grazie a voi Ricordiamo l'appuntamento nei cinema italiani Dal 4 dicembre Dal 6 dicembre la prima pietra Scusami L'Apsus dal 6 dicembre la prima pietra E adesso noi due continuiamo a discutere di l'amore Assolutamente Vi potete rammelare Ci sono stanzi libere Fate come volete No, no Motecorco io Grazie mille Un saluto e alla prossima Arrivederci Ciao Grazie mille Grazie.